Ancora un pareggio in rimonta per il Biceglie dopo quello nell'infrasettimanale contro il Monopoli che mette un altro mattoncino per costruire la salvezza in Serie C. Il punto conquistato rimontando il Potenza non fa torto né alla squadra di Bucaro né a quella di Eziorino Capuano, tecnico che ritrova lo Zaccheria, sede casalinga per i bicegliesi nel girovagare di queste settimane anche se da avversario lui che affoggia avrebbe dovuto allenare in questa stagione. La gara si sblocca dopo soli nove minuti grazie al calcio di rigore che Salvemini conquista subendo la trattenuta di Altobello e Cianci trasforma spiazzando Russo. L'estremo difensore bicegliese si fa trovare pronto sulla conclusione di Panico tre minuti più tardi anche se il momento favorevole del Potenza si spegne qui. Serve tempo al Biceglie per creare le prime vere occasioni e ne arrivano due nel giro di sette minuti entrambe sui piedi di cittadino. Sul rasoterra al trentaduesimo la palla sfida sul fondo, su quella del trentanovesimo l'errore è tutto dell'attaccante neroazzurro stellato. Biceglie propositivo anche nella ripresa con Rocco poco preciso da posizione e comunque defilata. Non sbaglia invece Mansur che approfitta di un errato disimpegno della difesa del Potenza per firmare il pareggio. La gara si vivacizza con i padroni di casa che ci provano ancora con Rocco, palla al lato, ma rintuzzano sul tentativo di Compagnon poco alto e la punizione di Cianci, anche questa sulla traversa. L'occasione di Compagnon ad un minuto dal termine è meno pericolosa di quella costruita da Musso 50 secondi dopo per il Biceglie. Sia in un caso che nell'altro non arriva il gol che sarebbe valso tre punti, anche se il pareggio non scontenta nessuno.